Andiamo a preparare oggi una marinata per della carne rossa, procediamo subito. Per quanto riguarda la parte oleosa metterò dell'olio extravergine di oliva, per la parte acida del vino rosso aggiungerò per quanto riguarda gli aromi e le spezie due spicchi di aglio, del prezzemolo, del pepe nero, un po' di rosmarino, della salvia, un po' di maggiorana, all'oro e del timo, vado a mescolare il tutto, la marinata è pronta, vado a chiudere con un coperto, ora vado a metterla in frigorifero per due ore, dopodiché taglierò la carne, ho preso un pezzo grosso di cuberol e farò ossare la carne con la marinata per altre 3-4 ore. Ho appena tagliato la carne, vedete che bella, ho tolto dal frigorifero la marinata, copro con un coperchio, se non avete il coperto potete tranquillamente coprire con della pellicola, e lascio in frigorifero per altre 3-4 ore, se non avete tempo anche un'oretta potrebbe andare bene. Comunque io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere come è venuta, condividete e iscrivetevi al canale, ciao a tutti!